Dunque oggi è il 6 maggio 2023, guardate cosa hanno fatto i tifosi del Genoa, guardate che cazzata che hanno fatto, hanno pensato bene di coprire le strisce pedonali, non si rendono conto che di notte queste strisce non si vedranno e non si sono limitati a farlo qui, ma anche più su. Ora, cari genuani, pagheremo tutti il ripristino di queste strisce pedonali e generano un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti, perché di notte non si vedono quando io mi permettevo come mio diritto di non portare la mascherina all'aperto perché stavo distanziata dagli altri, ci sono sempre stati sceriffi che volevano farmi multare, ora io devo farlo questo video perché bisogna mandare la segnalazione al comune o credete davvero che il comune di Genova, nelle persone dei loro vigili urbani, faranno qualcosa. Genuani, ma non vi vergognate di essere così idioti? e adesso andiamo a vedere le altre. Ora, fate i marciapiedi, fate i muri, avete diritto alla vostra gioia, nessuno ve la vuole togliere, ma perché siete così stronzi? Perché non avete pensato che imbrattare le strisce pedonali metteva a rischio la vita delle persone, ma non ci arrivate a capirlo. Secondo voi, perché sono bianche le strisce pedonali? Eh? Ora vedete un po' che altro bel lavoretto hanno fatto qua. Aspetta, eh? Che ma ci arriviamo. Ecco qua. e avete fatto anche questa. Vergognatevi e auguratevi che non venga a sapere chi è stato. Auguratevelo. Avete fatto il muro? Avete fatto la fermata dell'autobus? Va bene, fate i marciapiedi. Ma perché avete fatto le strisce pedonali, imbecilli, criminali?